Blitz a sorpresa dei carabinieri del nucleo operativo di Giarre, nell'abitazione di un noto pregiudicato di Mascali. Le manette sono scattate ai polsi del 41enne Salvatore Caltabiano, inteso Turi-Satana. Al termine di una perquisizione domiciliare, l'uomo è stato trovato in possesso di una imprecisata quantità di marijuana. Dinanzi, l'evidenza dei fatti è stato arrestato in fraganza di reato con l'accusa di detenzione e fine lo spaccio di sostanze stupefacenti. E sempre a Mascali, ieri, nel primo pomeriggio, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato invece un 56enne ex commerciante con l'accusa di detenzione illegale di armi e munizioni da guerra. Nel dettaglio, al termine di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di una sciabola modello 1891, una cartuccia calibro 12, poi sottoposti a sequestro. Espletate le formalità di rito, l'uomo è stato poi condotto agli arresti domiciliari.